La Corte Costituzionale ha un nuovo presidente, Silvana Sciarra, 74 anni, originaria di Trani, eletta con 8 voti favorevoli su 15, appena un voto in più di Daria De Pretis. Eletta giudice costituzionale dal Parlamento nel 2014, succede a Giuliano Amato, di cui è stata vicepresidente. Rimarrà in carica fino a novembre 2023, fine del suo mandato di giudice della consulta. Come primo atto da presidente, Silvana Sciarra ha confermato i due vicepresidenti, Daria De Pretis e Nicolò Zanon. Grazie a tutti.